e c'è qualche problema di accesso perché la scenografia è un po accidentata buongiorno a tutti, scusate questo piccolo ma è il bello del palcoscenico di un teatro appunto di trovarsi una zona montuosa in pieno in riva al mare grazie, è bellissimo vedervi, vedere tutta questa gente che affolla al Teatro Verdi ad accogliere il professor Giorello e la seconda appuntamento con le quattro virtù cardinali che appunto è questo nuovo ciclo di incontri che ci hanno portato a Trieste gli editori La Terza insieme al Comune con la sponsorizzazione e con il contributo della fondazione CR Trieste e con la partnership come sapete del quotidiano Il Piccolo per noi è una grande gioia avere oggi dopo Remo Bodei che è stata la settimana scorsa Giulio Giorello, Giulio Giorello è una formazione diciamo potremmo definirla dalle due anime anche se io poi vi dirò che ha anche una terza anima che è quella del narratore ma in realtà lui nasce come filosofo prima perché si è laureato in filosofia a Milano tra l'altro quando insegnava il grande Gay Monat poi si è laureato in matematica e poi ha iniziato a insegnare in varie università italiane oggi insegna ancora filosofia della scienza all'università di Milano ed è autore di moltissimi libri io vi ricordo soltanto uno che è la filosofia di Topolino che credo è stato letto anche da chi non è un esperto né di scienza né di filosofia perché è un libro bellissimo ma ne ha scritti anche molti altri come Senza Dio io ricordo un bellissimo libro, li dicevo prima, di racconti che ha scritto alcuni anni fa per Mondadori che si chiama Il fantasma e il desiderio che per chi ha voglia di leggere dei racconti veramente belli ve lo consiglio caldamente e poi ovviamente ha tutta un'altra serie di attività oggi ci parlerà della temperanza che credo sia un argomento che dovremmo praticare oggi un po' di più quindi con grande gioia cedo la parola al professor Giorello bene, si si sente bene no? per me è un piacere essere qui a Trieste, non è la prima volta che vengo in questa bellissima città però è la prima volta che vedo questo splendido teatro che è di una bellezza estrema e mi sembra il luogo giusto per parlare della virtù della temperanza virtù che è come voi sapete una delle quattro virtù cardinali la temperanza solitamente, invece nella tradizione italiana, è rappresentata da una bella signora dal vestito sobrio ed elegante che ha alle sue spalle talvolta un paesaggio sereno io qui ho scelto due figure, una è di Carpaccio e l'altra è di Paolo Veronese spero che vengano fuori non sono venuti la temperanza si nasconde vabbè, aspettiamo che vengano suppongo che siano apparsi bene bene, raccontare della temperanza è ovviamente un compito non facile bisogna scegliere forse un filone particolare e il filone particolare che ho scelto è un filone che vede la temperanza come una virtù essenzialmente politica questo filone ha avuto anche dei rappresentanti importanti nel nostro paese prima, mentre chiacchieravo in un'intervista ho citato la figura di Luigi Enaudi che fu tra l'altro il secondo presidente della Repubblica Italiana ma come nucleo di idee e confronto con una serie continua di sfide politiche direi che la temperanza nell'età moderna ha visto le sue prove più rilevanti nelle culture delle isole britanniche in particolare io ho scelto di partire dalla figura del poeta John Milton che non è stato soltanto un grandissimo maestro dei versi come dimostra il suo paradiso perduto ma cosa meno nota è autore di tutta una serie di ribelli di carattere politico impegnati nella grande ribellione che attraversa la prima metà del Seicento in Inghilterra Milton si schiera con il Parlamento e in un testo che è stato tradotto anni fa da un grande anglista che si chiama Salvatore Breglia per i tipi della La Terza traccia anche un elogio della temperanza che adesso mi farebbe il piacere che voi sentiate grazie che gran virtù è la temperanza e quale grande importanza essa in tutta la vita umana eppure il Dio non ha prescritto nessuna legge o regola speciale a suo riguardo affidando l'uso di questa sì grande facoltà interamente alla discrezione di ciascun uomo maturo giacché in tutte quelle azioni che anziché uscirne entrano nell'uomo e non possono quindi contaminarlo il Dio non ha voluto sottoporci a norme definite e tenerci in una perpetua minorità ma ci ha invece affidato il dono della ragione affinché potessimo scegliere da per noi stessi ci sarebbe poco bisogno infatti delle prediche se le leggi e la coercizione dovessero pesare anche su quelle cose che finora furono governate dall'esortazione soltanto Salomone ci dice che molto studiare è fatica la carne ma né lui né alcun altro ispirato scrittore ci dice che tale o tal'altra lettura sia illecita eppure se Dio avesse creduto utile imporci delle restrizioni sarebbe stato certamente meglio se ci avessero detto quello che era illecito anziché quello che era faticoso a leggersi come avete sentito Milton sta difendendo in un testo del 1644 che è dedicato alla libertà di pubblicazione si chiama alla greca areopagitica sta difendendo l'esigenza che i libri vengano pubblicati senza alcuna censura preventiva e che la lettura dei libri sia completamente libera cosa c'entra allora la temperanza con questa richiesta di tolleranza e di libertà il temperante deve essere anzitutto chi governa è chi ha in mano un potere che non deve uscire dai limiti regittimi di questo potere e prevaricare sui propri concittadini quindi la temperanza sotto questo profilo è una virtù di cui devono dar prova anzitutto i governanti quando Milton scrive le parole che avete sentito siamo 1644 nel cuore della guerra civile che divide l'Inghilterra da una parte sono schierati i difensori dei diritti del Parlamento a Londra dall'altra parte non molto lontano da Londra a Oxford si annida invece il re Carlo I con il suo esercito e lo scontro si trascina in battaglie pesanti e sanguinose Milton non resita a schierarsi dalla parte dell'esercito parlamentare sarà poi consigliere e amico di Oliver Cromwell e quindi parteciperà a quello che è stato chiamato il primo e finora ultimo esperimento repubblicano in Inghilterra dico finora perché non ci sono come direbbe Milton non ci sono limiti alla provvidenza divina ecco allora questa esperienza politica si traduce proprio in Milton nell'appoggio all'esercito di nuovo modello con cui Oliver Cromwell riesce finalmente aveva ragione del potere monarchico portando alla fine il re sotto processo dopo aver purgato il Parlamento credo che adesso voi vediate uno dei tanti momenti in cui Cromwell ha purgato il Parlamento da quegli elementi che erano troppo corivi con la monarchia e avvia un esperimento repubblicano appunto in Inghilterra direi che la parentesi di Cromwell è stata poi quasi dimenticata spesso dai politici successivi se mi è lecito un ricordo personale mi viene in mente quando in un incontro tra il presidente Mitterrand e Margaret Thatcher quella signora si rivolse a Mitterrand e disse eh voi francesi con la vostra rivoluzione quante ne avete combinate Mitterrand sta a sentire la signora e poi disse ma in Inghilterra non è mica successo niente e quel re che è finito decapitato come Carlo I Stuart quindi in realtà anche le vicende delle isole britanniche sono ricche di quei capovolgimenti di regime che si cominciarono a chiamare nel 600 revolutions cioè rivoluzioni rivoluzioni in un primo tempo indicava semplicemente il volgere degli anni su un lungo periodo in un secondo tempo indica invece un cambiamento di regime che magari guarda un antico passato che vuole ripristinare contro la corruzione del presente ma che non esita questo grande cambiamento anche a ricorre a modellità abbastanza coercitive il secondo grande esempio delle isole britanniche viene dalla crisi che si ebbe dopo la restaurazione quando finita la monarchia assai di compromesso e di equilibrio di Carlo II salì al trono il fratello di lui Giacomo e Giacomo tentò di restaurare nelle isole britanniche la old time religion la religione dei vecchi tempi che era la religione cattolica la cosa non fu evidentemente molto gradita tant'è vero che riuscì questa politica di Giacomo a far alleare diciamo conservatori liberali tanto per dare due etichette a noi contemporane e ciò portò a una pacifica sostituzione del monarca che fu rimpiazzato dalla sorella Mary ma soprattutto dal marito di lei che non era un britannico era uno straniero si chiamava Guglielmo di Orange ed era uno degli uomini forti delle cosiddette province unite e questi due monarchi furono quelli che inaugurarono un periodo di monarchia costituzionale cioè capace di rispettare quella tradizione di leggi formatosi nei secoli che è nota abitualmente come British Constitution come Costituzione britannica non è un caso che la bandiera che si vede in una di queste illustrazioni dello sbarco di Guglielmo di Orange con la moglie Mary porti scritto The Protection of Liberty protezione della libertà e d'altra parte Cranwell prima durante il periodo turbolento che aveva concluso la guerra civile si era autonominato l'or protettore di quella che però per lui restava formalmente una repubblica quindi questi sono degli sviluppi piuttosto intricati come voi potete capire sviluppi che però comportano anche una modernizzazione del paese di cui vengono appunto in pochi decenni cambiate strutture architettoniche grandi reti urbanistiche istituti di aiuto per esempio ospedali e si riprende l'idea che la conoscenza sia un bene per tutti e quindi viene potenziata anche l'istruzione a tutti i livelli questo è il debutto della Gran Bretagna nella modernità dico Gran Bretagna perché sono interessate tanto l'Inghilterra quanto la Scozia e il paese di Galles e viene coinvolta anche in questo processo l'Irlanda paese dalla storia molto complessa e intricata visto la resistenza ostinata di gran parte della società irlandese al controllo sempre più capillare voluto dall'isola vicina è una vicenda quindi che ha i suoi alti e i suoi bassi e che viene rispecchiata potentemente dalla riflessione filosofica una delle più grandi figure del secondo seicento la seconda metà del seicento e che verrà letto con passione in tutto il settecento è il filosofo John Locke Locke è autore di un importantissimo saggio sull'intelletto umano che tocca i vari aspetti della comprensione scientifica e del linguaggio con cui questa compressione viene espressa ma Locke è anche l'autore di due trattati sul governo civile il secondo trattato sul governo civile riflette la situazione politica a cui vi ho accennato la rivoluzione dei tempi di Cranwell la restaurazione le mosse sbagliate di re Giacomo e la sua destituzione il passo che vi sarà letto adesso è un passo che contiene un punto estremamente delicato quello che Locke chiama l'appello al cielo prego se sorge una controversia tra un principe e qualche membro del popolo su una questione su cui la legge tace o si pronuncia in modo dubbio è la cosa di grande importanza ritengo che in tal caso il vero arbitro dovrebbe essere il corpo del popolo infatti nei casi in cui il principe abbia ricevuto il mandato ed esonerato dalle comuni e ordinarie norme di legge se alcuni si ritengono danneggiati e pensano che il principe agisca contro il mandato o al di là del mandato chi meglio del corpo del popolo che gli ha affidato in principio quel mandato può giudicare circa l'ampiezza che intendeva dare al mandato stesso ma se il principe o chiunque sia nell'amministrazione del governo rifiuta questo tipo di risoluzione non rimane che l'appello al cielo infatti l'uso è propriamente uno stato di guerra nel quale non rimane che l'appello del cielo e in questo stato la parte offesa deve giudicare per suo conto quando sia opportuno farvi ricorso e affidarvisi è abbastanza chiaro che cosa intenda l'oc per l'appello al cielo è l'appello alle armi è come già si era visto nella prima metà del seicento e come riemerge con la destituzione di Giacomo Stuart e la chiamata di Guglielmo e di Mary al trono di Inghilterra di Scozia e di Irlanda questa glorious revolution come la chiamano ufficialmente gli inglesi è chiamata in questo modo perché avvenne in modalità relativamente pacifiche dico relativamente pacifiche perché se fu pacifico questo trapasso di potere in Inghilterra non lo fu né in Scozia né in Irlanda gli scozzesi si divisero con una guerra civile tra i clan favorevoli all'innovazione e i clan che volevano restare legati agli Stuart dopo tutto gli Stuart in una dinastia di origine scozzese e si ebbero non pochi scontri più grave la situazione in Irlanda dove nel 1688 si ebbe una vera e propria guerra civile tra Stuartisti e anti Stuartisti che ben presto si mutò in un tentativo coraggioso e disperato di gran parte del popolo irlandese di cacciare via con le armi quelli che consideravano gli invasori provenienti soprattutto dall'Inghilterra fu una vera e propria guerra civile quindi la Glorious Revolution non fu una conquista in dolore l'intemperanza di Giacomo aveva prodotto di nuovo una serie di reazioni sanguinose e violente questo passato attraverso il filtro di Locke veniva ancora riconsiderato nell'Ottocento l'Ottocento è un secolo che vede un grande progresso delle isole britanniche dal punto di vista della scienza applicata e dell'ingegneria ben presto sarà il secolo dei battelli a vapore e il secolo delle grandi ferrovie un periodo quindi di modernizzazione ottenuto però attraverso la fabbrica e quindi un momento in cui numerose libertà furono messe in discussione forse sulla scia di Locke il pensatore che più ha vissuto questo momento critico delle isole britanniche è John Stuart Mill John Stuart Mill è talvolta presentato come un filosofo un po' pesante un po' noioso nei nostri manuali di storia della filosofia dei licei che dimenticano nel discutere le dottrine logiche economiche di Mill le sue lotte civili in difesa delle libertà del quello che chiameremmo il people il popolo attenzione people in inglese è un soggetto che vuole il plurale perché non indica un generico popolo messo tutto insieme indica un insieme di persone ciascuna delle quali è portatore di diritti legittimi allora quale popolo in questo senso guardava John Stuart Mill e guardava intanto l'Inghilterra ma guardava anche la Scozia guardava la situazione irlandese aveva in mente forme di discriminazione odiose Mill per esempio fu uno dei primi grandi sostenitori della libertà femminile lottando per l'emancipazione della donna in questo ispirato dalla sua compagna Harriet Taylor non solo come Mill trovava deplorevoli le condizioni del proletariato industriale la condizione della donna le condizioni dei neri ancora schiavi in quella che sembrava peraltro una delle democrazie più avanzate anzi la democrazia per eccellenza quella degli Stati Uniti in tutti questi campi fu all'avanguardia in lotte di rivendicazione di emancipazione appunto le donne i neri contro il razzismo contro le modalità anche queste biecamente razzistiche con cui erano considerati dagli inglesi gli irlandesi e via discorrendo e infatti si lanciò quando ci fu la guerra civile americana stati del nord abolizionisti contro stati del sud invece schiavisti Mill intervenne sul conflitto attuale degli Stati Uniti cercando di mostrare due cose agli americani come questo conflitto fosse la necessaria conseguenza di quelle che erano le contraddizioni della società americana che era nata da una vittoriosa guerra di indipendenza contro la madrepatria britannica secondo cercò di mostrare come non fosse interesse né dell'Inghilterra né del resto del mondo civile europeo schierarsi per interessi economici dalla parte degli stati schiavisti e invece cercò di difendere la causa degli abolizionisti sperando che il presidente Abraham Lincoln fosse capace in questo di chiudere con schiavitù e razzismo chiuse Lincoln con la schiavitù mediante un complesso programma di emancipazione degli schiavi ma questo non significò come Milton scusate un attimo di stanchezza come Mill ebbe modo di notare la fine del razzismo anzi adesso e solo adesso forse noi ci rendiamo conto di come i neri apparentemente liberi si trovarono a lottare in condizioni estreme proprio contro il potere del capitalismo americano e con fatica cercarono di abolire il razzismo ma anche una società di classe fortemente oppressiva nei confronti soprattutto del popolo nero ma non solo chi ha letto un po' di storia del novecento dovrà ricordare almeno due grandi nomi uno di quello di Martin Luther King finito assassinato e l'altro quello del rosso di Detroit più noto come Malcolm X anche lui finito assassinato però queste due enormi grandi figure della libertà americana non vanno staccate dal contesto e cioè da tutta la lotta di quelle donne di quegli uomini neri e dei loro fiancheggiatori bianchi e perché ce ne furono per lottare per una società più equa e più giusta una società più equa e più giusta e anche più libera nel senso di John Stuart Mill e cioè capace di rispettare quegli ideali di libertà di espressione che sono la premessa per l'esercizio di giustizia e di solidarietà la sequenza che no forse è meglio che leggiamo prima uno dei pezzi secondo me più belli di John Stuart Mill in realtà il detto che la verità trionfa sempre sulle persecuzioni è una di quelle gradevoli falsità che gli uomini continuano a ripetersi finché non diventano luoghi comuni ma che tutta l'esperienza contraddice la storia abbonda di casi in cui la verità è stata costretta al silenzio dalle persecuzioni quando non è soppressa definitivamente può essere rinviata di secoli per menzionare solo opinioni religiose la riforma esplose almeno venti volte prima di Lutero e fu oppressa Arnaldo da Brescia fu soppresso Fradolcino fu soppresso gli albigesi furono soppressi i valdesi furono soppressi i lollardi furono soppressi gli ussiti furono soppressi anche dopo Lutero nei casi in cui si insistè nelle persecuzioni esse ebbero successo in Spagna Italia Fiandre impero austriaco il protestantesimo fu sradicato e molto probabilmente avrebbe fatto la stessa fine in Inghilterra se la regina Maria fosse vissuta o la regina Elisabetta fosse morta le persecuzioni sono sempre riuscite salvo quando gli eretici erano troppo forti per poter essere perseguitati efficacemente nessuna persona ragionevole può dubitare che il cristianesimo avrebbe potuto essere sradicato dall'impero romano si diffuse e divenne predominante perché le persecuzioni furono occasionali di breve durata e separate da lunghi intervalli di propaganda quasi indisturbata è sentimentalismo inutile pensare che la verità semplicemente in quanto tale abbia un qualche potere intrinseco negato all'errore di prevalere contro le segrete e il rogo gli uomini non hanno più zelo per la verità di quanto non ne abbiano spesso per l'errore e un'adeguata applicazione di sanzioni legali o anche soltanto sociali riuscirà in generale ad arrestare la diffusione di entrambi il reale vantaggio della verità è che quando un'opinione è vera la si può soffocare una due molte volte ma nel corso del tempo vi saranno in generale persone che la riscopriranno finché non riapparirà in circostanze che le permetteranno di sfuggire alle persecuzioni fino a quando si sarà sufficientemente consolidata da resistere a tutti i successivi sforzi di sopprimerla e allora viene ben chiaro dalle parole di Mill che avete sentito che chi esergita l'intemperanza chi cade a questo vizio che è la negazione appunto della virtù di cui parlavamo prima può essere soprattutto chi ha il potere in mano chi governa può essere un re che diventa un despota può essere un gruppo di aristocratici che diventano degli oligarchi che non permettono ricambio nella classe dirigente può essere questo è il passo ulteriore di Mill rispetto a Milton e a Locke può essere anche un potere democratico non c'è tirannia peggiore scrive altrove John Stuart Mill di quella che si chiama tradizionalmente majority rule cioè tirannia della maggioranza e quando una maggioranza si fa forte del proprio prevalere numerico contro le minoranze magari contro la minoranza di un solo individuo allora per Mill un'autentica democrazia si riconosce perché da voce alle minoranze e permette anche a questi gruppi di avere un'espressione civile un'espressione matura nel dibattito delle idee Mill appunto aveva in mente e lo si capisce bene dal suo saggio sulla libertà che del 1858 pubblicazione all'inizio del 59 che l'esperienza americana poteva essere esemplare sia nei suoi meriti sia anche nei suoi demeriti le figure che seguono adesso sono alcune figure che riprendono proprio alcuni momenti cruciali della lotta americana per l'indipendenza la prima è una visione epica di George Washington che attraversa il fiume della guerra all'inizio della guerra di liberazione contro il potere britannico poi per contrasto quasi abbiamo anche messo una diapositiva che rappresenta la resa finale delle truppe britanniche di fronte al vittorioso esercito delle colonie che si sono rese indipendenti e che si avviano a creare quelli che saranno gli Stati Uniti d'America questa immagine in cui si vedono da una parte le bandiere delle giubbe rosse dall'altra parte invece la bandiera delle colonie ribelli era intitolata il mondo girato sotto sopra cioè rovesciato il mondo in cui le persone che normalmente sono escluse dai giochi di potere cercano di instaurare un potere diverso e una forma diversa di legalità mi l'avrebbe detto una legalità più temperante questa ha avuto anche un suo momento fondativo assai importante ed è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti sottoscritta a Filadelfia il 4 luglio del 1776 è una dichiarazione potentemente ispirata dalle idee di uno degli uomini politici più rilevanti del settecento americano Thomas Jefferson il gentiluomo della Virginia che quando nel 1787 mise giù la prima versione di quello che è noto come note sullo stato della Virginia lo stato da cui proveniva proprio nei momenti in cui gli inglesi erano battuti a Yorktown come voi avete già visto in figura scriveva frasi di questo tipo non mi importa se il mio vicino onora un dio solo onora venti dei o non ne onora nessuno l'importante è che non mi azzoppi o che non mi derubi come dire quello che conta è il rispetto della proprietà e il rispetto delle altre persone la scelta dei numeri da parte di Jefferson è tutt'altro che casuale un dio solo allude ai monoteismi della grande tradizione occidente ebraismo cristianesimo e anche islam i venti dei sono abbastanza comuni presso i nativi americani che erano loro gli originari proprietari della terra in quei paesi che poi divennero gli stati uniti e zero dei zero dei è un caso interessante perché va oltre Locke Locke che era stato sostenitore della tolleranza anche in campo religioso scrivendo un bellissimo testo che si chiama la ragionevolezza del cristianesimo aveva escluso dalla tolleranza alcune comunità piuttosto rilevanti i cattolici romani perché si ritengono sudditi del papa e non dello stato ma anche ma anche ebrei e musulmani non direttamente menzionati per non dire i politeisti come appunto potevano essere non pochi dei nativi americani e zero dei gli atei gli atei non avevano ancora cittadinanza in Locke hanno invece una cittadinanza in questa coraggiosa proposizione di Thomas Jefferson quindi non mi importa se il mio vicino adorio un Dio solo dieci dei o zero dei l'importante è che non mi ammazzi o non mi derubi e Jefferson non è presente alla la convocazione dell'assemblea che in cui viene dichiarata la l'indipendenza degli Stati Uniti 4 luglio 1776 ma l'ha ispirata potentemente nelle sue idee di fondo a cominciare dal fatto che in linea di principio ogni essere umano è nato libero e che le violazioni di questa libertà sono frutto di interferenze di governanti intemperanti e quindi questo ci permette di chiudere il nostro discorso a proposito della temperanza e del suo contrario l'intemperanza vorrei aggiungere ancora una piccola considerazione abbiamo tempo ed è questa quando uno nel nostro paese fa riferimento a questa tradizione di cui ho parlato Milton Locke poi Mill ma anche Washington ma anche Thomas Jefferson ma anche i pensatori che deliminearono l'esperimento democratico il termine loro esperimento democratico americano viene nel nostro paese accusato talvolta di pesante esterofilia ma come noi abbiamo tutt'altra tradizione perché non citi un po' di questi beh ci sono quelli del continente europeo che vale la pena di ricordare tanto per fare un nome sempre di un grande filosofo Baruch Spinoza teorico della tolleranza religiosa teorico della tolleranza politica difensore delle istituzioni repubblicane nella sua Olanda anche se queste furono poi messe un po' sotto da quel Guglielmo di Orange le cui imprese abbiamo raccontato prima ma possiamo guardare anche al nostro paese quando nel settecento Voltaire veniva tirato da una parte o dall'altra per questioni politiche era solito dire ai suoi concittadini francesi coraggio signori leggete Cesare Beccaria il dei delitti e delle pene era nei suoi propositi di riforma e di costruzione di una società più giusta in cui venissero abolite pene inutili e di pura vendetta era un modello questo illuminista italiano per un uomo appunto come Voltaire può darsi che di questi tempi Voltaire non sia così popolare qualcuno può preferirgli Lusso io continuo a preferire Voltaire il quale scherzava dicendo un modo per convincere i delinquenti a non fare delitti che potrebbero costare loro l'ergastolo è leggergli con pazienza tutta l'opera di Rousseau vedrete che a un certo punto passeranno ad autori un po' più interessanti ecco ci sono anche altri autori della tradizione europea che a me piace ricordare gli illuministi napoletani gli illuministi lombardi da cui scaturisce Carlo Cattaneo uomo estremamente attento alle vicende delle isole britanniche e devoto cultore della libertà e anche uomo d'azione durante sono questi tempi le cinque giornate di Milano e poi venendo più vicini a noi ci sono stati elementi che hanno parlato addirittura a proposito della temperanza dei buoni governanti e dell'intemperanza dei cattivi governanti di un'autentica rivoluzione liberale pensate a Piero Gobetti e venendo ancora più vicini a noi pensate a Luigi Naudi appunto che è stato il grande presidente della Repubblica italiana ma prima di essere presidente della Repubblica italiana fu un economista il quale se ne guardava bene dal dichiararsi fautore di un laissez-faire sfrenato ma sosteneva invece la presenza legittima dello Stato dove si trattava di garantire ai propri concittadini dei servizi essenziali per esempio l'istruzione per esempio la sanità per esempio il buon funzionamento dei trasporti questa tradizione continentale e anche italiana è dunque molto importante solo che si trova talvolta di fronte a delle forme di rigetto ancora più forti di quelle che le idee di Milton le idee di Mill le idee di Loc conobbero a casa loro e questo è un problema nostro un problema di cittadini renderci conto che the protection of liberty la protezione della libertà non è un dono di qualche loro protettore qualunque siano le sue intenzioni peraltro quelle di Cronwell a me sembrano ottime visto che erano quelli che Cronwell è riuscito giustamente a schiacciare ma bisogna tenere presente che il rischio peggiore come diceva John Stuart Mill sta in una suddola dittatura tra virgolette democratica dove una maggioranza riesce a imporsi dimentica le minoranze non si cura del diritto del singolo e quindi esercita una forma di tirannia che è ancora peggiore di quella dei vecchi despoti perché è diffusa capillarmente nella società è una domanda che poniamo alla nostra coscienza di liberi osservatori delle società in cui viviamo se questo appello di Mill alla libertà o quello di Enaudi se preferite abbia oggi ancora un senso io credo di sì anzi più questo appello alle libertà è minacciato più ha un senso cogente per noi purché siamo decisi come i tempi di Milton che quando sono in gioco la libertà e la vita ogni cittadina e ogni cittadino è chiamato a mobilitarsi in difesa di una libertà che non è altro che sinonimo di una vita piena di persone consapevoli dei propri diritti e rispettosi questo va aggiunto subito dei propri doveri cioè che hanno quello che io chiamo senso di responsabilità sociale con la firma della dichiarazione di dipendenza io vi saluto e passo la parola a chi così gentilmente mi ha presentato grazie grazie a professor giorello per questa bellissima questo bellissimo viaggio che ci ha fatto fare tra il passato e il presente come vedete ragionare su quello che hanno scritto e detto i pensatori che ci hanno preceduto ci aiuta a mettere a fuoco anche i molti dubbi e le molte incertezze che abbiamo sul nostro tempo tra l'altro vi ricordo perché come ho detto prima è un libro che a me sta molto a cuore che Baruch Spinoza è protagonista di uno dei racconti del fantasma e il desiderio c'è questo libro che vi citavo prima pubblicato da Mondadori che vi farà scoprire per chi avrà il piacere la voglia di leggerlo un Giulio Giorello narratore ma adesso c'è lo spazio per fare delle domande per fare un piccolo dialogo con il professore quindi c'è un microfono credo in sala basta alzare la manina e possiamo iniziare questo dialogo so che la prima domanda è sempre difficile da fare ma insomma siamo credo tra persone amiche quindi non abbiate paura di esprimere la vostra idea se non ho capito la domanda no prego molto male la vecchiaia mi ha un po' un po' assordato non c'è un microfono lì che può ma ci dovrebbe essere un microfono può ridire la domanda così il professore la sente meglio l'uvi sulla tradizione di poster in Italia il l'uvi sulla tradizione di poster in Italia poster di popper di quel soldato che riteneva di essere l'unico a marciare al passo mentre tutto il resto dello squadrone era fuori tempo bisognerebbe aggiungere a commento di questo paradosso molto elegante di popper un piccolo commento non fucilate il soldato popper ma ringraziamolo per quello che popper ha fatto non soltanto per il suo bellissimo testo di filosofia della scelta che è la logica scoperta scientifica versione in inglese del 1958-59 ma anche per aver difeso la società aperta nel suo testo degli anni 40 che si intitola la società aperta e i suoi nemici domanda chi sono i nemici perché il titolo non lo dice ma il sottotitolo dei due volumi sì i sottotitoli infatti suolano Platone totalitario e poi Hegel e Marx falsi profeti ora per prima cosa c'è da fare un omaggio al coraggio intellettuale di popper perché andare a toccare Platone voleva dire anche nei paesi di lingua inglese popper se ne stava quando ho scritto il libro in Nuova Zelanda ma poi migrò un migrante di lusso che venne ad insegnare la London School of Economics quindi nel centro del centro politico della Gran Bretagna e uno che si mettesse ad attaccare Platone si tirava addosso naturalmente la maledizione di tutti gli storici dell'antichità dell'antichità classica per cui Platone non si tocca invece proprio l'ha toccato ha fatto vedere che secondo lui lo stato descritto nella Repubblica è uno stato terribile soffocante e pesante ma nemmeno in opere più mature la durezza politica di Platone viene meno in particolare nemmeno nel libro detto delle leggi ora come dicevo molti pensatori classici classi studiosi dell'età classica non hanno perdonato a Popper questo atto di resa maestà anche se Popper dichiara nella società aperta che lui ha la massima stima di Platone come grande pensatore ma non è convinto evidentemente della traduzione della teoria delle idee di Platone in ricetta politica non è stato il solo non è stato il solo se voi guardate bene tra le righe dell'areopagitica di Milton Milton forse un po' in polemica con Thomas More ma anche con Platone ad un certo punto scrive non dobbiamo chiuderci in una società ideale in cui tutto è già preordinato viviamo giorno per giorno in questo mondo in cui ci ha gettato la provvidenza divina e quindi la polemica di Milton con Platone è abbastanza esplicita altri pensatori sono stati piuttosto critici di Platone lo dico a beneficio degli eventuali studenti delle medie superiori qui presenti per loro un pensatore che non risparmia Platone è Giacomo Leopardi il quale Leopardi dice che bello Platone con le idee eterne fonda l'esistenza di Dio e poi l'esistenza di Dio su cosa la fonda sulle idee eterne si chiama circolo vizioso e Leopardi aggiunse come già aveva intuito John Locke dal che si evince che Locke a Leopardi piaceva Platone molto di meno con tutto il rispetto per carità per questo grandissimo filosofo Marcel Hegel qui non abbiamo più Leopardi che ci soccora ma però possiamo dire due cose molto brevemente che per Popper il sistema hegeliano è uno dei sistemi di idee più oppressivo e antilibertario che mai si potesse concepire e in questo Popper va diciamo con una mano critica molto dura diverso tenti bene è la posizione dei confronti di Marx perché Popper pur criticando alcuni aspetti che ritiene deplorevoli dell'atteggiamento di Marx dà atto a Marx di una grande generosità quella di aver saputo far propria la condizione della classe operai in Inghilterra e in altri paesi del mondo industrializzato e difenderla con grande passione ma Popper aggiunge con grande passione morale anche se Marx avrebbe rifiutato di essere considerato un pensatore morale perché era convinto di poter fondare tutto questo su delle leggi scientifiche che in realtà non stanno in piedi quindi vedete che in questi tre nemici della società aperta Platone Hegel e Marx Marx è quello che esce meglio ne esce anche con una certa simpatia umana da parte di Popper che Popper ha avuto modo di ribadire anche in altri suoi testi persino in uno di quelli in cui sembra attaccare di più lo storicismo marxista che è miseria dello storicismo ma in cui riesce sempre a distinguere questa portata forte morale di Marx da questo tentativo di fondare la morale su una base pretesa scientifica che in realtà secondo Popper non sta in piedi per chiudere su Popper Popper è stato un grande amico della società aperta andrebbe bene in questa categoria di prestatori che io prima ho elencato solo che non potevo citarli tutti però vi è ragione se no alle 4 del pomeriggio siamo ancora qua ecco dai forse la sentiamo una buona voce si sì sì questa l'ho sentita questa l'ho sentita allora i tuoi personaggi vanno valutati con quello che fanno non solo con quello che hanno fatto prima ma quello che fanno o faranno anche a tempi relativamente brevi io non sono un esperto di politica nel senso della politica dei partiti nuovi o vecchi che siano posso dire esprimo una speranza questa sì che il cambiamento politico che c'è stato con le elezioni di cui tanto si è parlato sulla rete in televisione e sui quotidiani sia un cambiamento che vada nella direzione di una repubblica italiana più snella per esempio meno gravata da quella che John Stuart Mill già chiamava la dittatura della burocrazia la quale ferma l'ingegno degli individui e toglie alle persone la voglia di vivere in società ecco quindi se si va in questa direzione io non dico sia probabile lo dico che non sia nemmeno improbabile sto a vedere se si va in questa direzione forse avremo una società diversa e aggiungo subito questo ci tengo a dirlo più degna dell'Europa non anti-europea ma più degna di quell'Europa a cui pensava in maniera esemplare è proprio Luigi Enaudi che è stato tra l'altro un grande europeista e uno che ha seguito da vicino la prima idea di un mercato comune europeo che doveva poi dare origine a una comunità politica sovranazionale certo l'Europa così com'è funziona poco lo vediamo nelle crisi a cui l'Europa si trova messa di fronte lo vediamo nelle crisi del Medio Oriente le vediamo nel mosaico di interessi contrastanti che c'è in Estremo Oriente a cui adesso tocco finale si è aggiunto anche la politica nucleare del signor Kim Jong-un spero di pronunciarlo giusto ecco lo vediamo quindi nella stessa situazione dell'Ucraina ebbene io personalmente ritengo che i legami europei vadano rafforzati che l'Europa debba essere capace di esprimere non soltanto una moneta unica ma anche una politica unitaria certo rispettabile dando le diversità dei paesi che la compongono questo è sacrosanto va nello stesso tempo non pensando che la soluzione ai problemi dell'Europa siano alcune uscite unilaterali come questa Brexit britannica che mi sembra francamente ridicola grazie grazie direi che abbiamo spazio ancora per un paio di domande perché dopo credo che dobbiamo chiudere per cui se c'è ancora qualcuno mi rifaccio un po' alla domanda che ha fatto chi mi ha preceduto dittatura della democrazia se lei dovesse in qualche modo dare un orientamento alle nuove generazioni che stanno vivendo un momento veramente difficile e complesso perché il nostro sistema politico non sta reggendo il passo a grandi difficoltà per dare una spinta al nostro paese lei cosa suggerirebbe ai giovani per un cambiamento ai giovani che poi devono essere poi gli attori di quello che è il futuro di questa società in qualche modo cosa direbbe loro per uscire da questa dittatura democratica che lei ha detto a volte è peggio di una dittatura illuminata di una persona sola che magari comanda il medici di turno e certamente qualcosa bisogna fare mi dia qualche spunto visto che io ho la delega anche ai giovani per poter parlare loro e dare qualche suggerimento attraverso la sua esperienza filosofica ma la mia esperienza come insegnante all'università è questa detta in breve che molti dei giovani io parlo di quelli che arrivano all'università sono ricchi di idee di progetti di voglia di lavorare spesso delusa spesso delusa e allora il consiglio è questo non lasciatevi scoraggiare dalla delusione impegnatevi ancora di più impegnatevi ancora di più per cambiare le istituzioni a cominciare dal mondo in cui vi trovate il mondo della scuola il mondo dell'università il mondo di eventuali scuole post-universitarie ci sono modi per cambiarli certo ci sono recentemente leggevo su un quotidiano l'intervento di un cantautore il quale le diceva facciamo studiare i nostri ragazzi anche al pomeriggio gli insegnanti lavoreranno di più ma dovrebbero essere pagati molto meglio e allora appunto paghiamo molto meglio gli insegnanti delle varie scuole una volta si diceva di ogni ordine grado ai vecchi tempi no? e naturalmente quelli che sanno insegnare quelli che sono bravi e capaci gli altri fuori grazie se volete ancora una domanda che poi credo che dovremo pian piano liberare il teatro buongiorno nel suo intervento aveva parlato della dittatura della maggioranza che è uno dei rischi della democrazia ma c'è anche un'altra questione che è la dittatura della minoranza allora come si fa a conciliare la temperanza nei confronti delle minoranze con la necessità poi di arrivare a una sintesi a quindi a un'attività a qualcosa di concreto grazie ma il consiglio che dava mille che a me sembra ancora molto civile nel senso forte di questa parola è che naturalmente quando si dà voce a una minoranza anche a una minoranza di una sola persona il soldato popper di cui si parlava prima queste minoranze devono avere la temperanza che consiste nell'esporre in modo calmo e pacato le loro idee e i loro programmi nel discuterli anche a fondo lasciando però parlare gli altri e quindi in questo modo in questo rispetto delle differenti opinioni c'è la possibilità che non ci sia né la dittatura di una maggioranza che temevano già era già temuta dai padri della rivoluzione americana quelle che avete visto qui in queste belle immagini che si compiacevano giustamente per la vittoria sui britannici ma non solo occorre che minoranze e maggioranze riescono mantenere un dialogo senza che nessuno pretenda di imporre la propria modalità di vita agli altri dove questo avviene occorre che si reagisca mettendo l'intemperante in condizioni di non nuocere ne abbiamo avute di intemperanze nella nostra Europa alcune sono diventate anche movimenti politici e sui frutti si chiamano fascismo nazismo stalinismo ecco non più bene direi che siamo arrivati alla fine di questa nostra mattinata grazie a professor Giulio Giorello grazie a te lo ringrazio per tutto quello per tutti gli spunti che ci ha dato uno in particolare che mi sta a cuore per averci ricordato che Giacomo Leopardi non è soltanto un poeta io vi ricordo ma anche un grande pensatore ricordatevi solo Zibaldone e i pensieri che secondo me nei meridiani mondadori sono addirittura tre volumi veramente da leggere e rileggere strepitosi vi ricordo che i prossimi due appuntamenti con Michela Marzano e Salvatore Vecca 15 aprile 22 aprile saranno qui al Teatro Verdi ovviamente vi aspettiamo e buona domenica a tutti grazie 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 bravissima grazie adesso ti chiedo